Il Tarantino Non deve acquistare un prodotto a scatola chiusa, deve sapere che se Luigi Abbate diventa sindaco, l'assessore a quel ramo sarà Tizio, a quell'altro ramo sarà Caio e così via. E oggi al mio fianco, lo avrete già conosciuto attraverso altri contributi, altre interviste, l'architetto Luca Lopatriello che avrà la delega assessorile con un'espressione sintetizzante alle opere pubbliche, nello specifico lavori pubblici, edilizia, urbanistica, patrimonio, risanamento della città vecchia. E oggi affrontiamo un tema importante perché i progetti sono fondamentali, sono importanti, però i progetti non camminano da soli se non c'è una organizzazione all'altezza. Di qui proprio l'aspetto che affrontiamo in questa chiacchierata, ovvero la rigenerazione della macchina amministrativa. Sì, bene Luigi, penso che questo punto sia uno dei pilastri portanti di questo assessorato. Cioè, prima che ci siano i fondi, prima che iniziano gli interventi, c'è una macchina, la macchina amministrativa, che se non funziona, che se non ha l'organico giusto, se non ha gli stimoli giusti, se non ha la professionalità giusta e ancora l'aggiornamento dedicato a tutto quello che i piani nuovi vogliono che siano le città, quindi il green, la rigenerazione urbana e tutto quello che è lo sviluppo sostenibile. Se non, cioè, voglio essere chiaro, i problemi che avremo, il primo problema che avremo sarà proprio questo, Luigi. Sarà, ecco, la parola torna, rigenerare, riformare questa macchina amministrativa, che è ostativa. Cioè, non è, a Taranto non è una macchina che funziona, non è una macchina propositiva. Spesso ingolfata. Ingolfata, ostativa, sì, ingolfa. Cioè, quello che dovrebbe essere il motore pulsante di tutto quello che sono le opere pubbliche, i bandi, i concorsi, quello che dovrebbe essere una macchina da guerra che deve macinare progetti, in realtà è proprio essa a bloccarli, è proprio essa a fermarsi. Molti dicono, burocrazia, io, sì, dietro la parola burocrazia nascondiamo le persone. Siamo persone, quindi vanno istruite, vanno aggiornate. E dico di più, chi nell'amministrazione, quindi in questi luoghi, ha sempre agito bene, è giusto anche che abbia uno scatto, che metta a proprio, al servizio, scusate, dei cittadini, le sue esperienze, in modo da poter rigenerare, no? Gli attori di questa pubblica amministrazione. E' importante perché si va verso la semplificazione, si va verso la, già lo sappiamo, c'è il Comune, ha un ufficio dedicato alla trasparenza, quindi tutto è possibile, tutto è visibile, però la semplificazione nel nostro ambito riguarda anche qualcosa che in realtà di tanto semplice non è. L'urbanistica ha delle norme, richiede dei piani che sono lenti, sono vecchi, diciamoci la verità, il piano regolatore è degli anni 70, fino agli anni 70 e ci sono tante cose da pianificare su Taranto. Ecco, vorrei che fosse chiaro che quelle operazioni che adesso facciamo, anche nel privato, no? Di rinnovare la nostra casa, che succede? Adesso c'è questa condizione che tutto risulta vietato, cioè il diniego, puoi fare solo quello che il Comune ti concede di fare. Questo modo, che è un modo, a mio avviso, vetusto, vecchio, ci tiene fermi. Noi dovremmo approfittare, e su questo insomma ci sono anche degli autorevoli personaggi che ne parlano, bisogna cambiare un po' le regole, bisogna che sia permesso tutto, tranne quello che è vietato. In questo modo andiamo a lavorare sulla creatività, sulle idee, sulle proposte. Sull'iniziativa. Così la cambiamo Taranto. Ecco, le norme sono tante volte limiti. Dovrebbero essere delle guide, ma sono dei limiti.